siete caricati per la domanda dai siamo carichi dai buona tra patata e banana cosa preferisci bro patata patata perché la patata patata bro patata caldo freddo fra la patata c'è la patata e patata però io direi che la patata se volete ti offro un bella patata adesso si vuoi con la patata fra ma fra è patata no ma fra è patata perché spaga è un patato o no puoi venire la patata la patata quello col buco costello gustosa patata dolce però non salata perché quale motivo quale motivo perché ce l'ho 25 centimetri dentro croce spaga incredibili sì sì se voglio ti offro un bella patata qua subito fra la tua ragazza oppure cosa è un bella patata portata e patata e fra il tuo tipo porta male io ti offro un bella patata per voi preferisci a prendere la prendiamo subito 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 ma io con la patata no 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 hey there subscribe to my channel and also press this bell icon bella bella fra la vera tutto bene buona siete di bologna no no di ravella buona ci sta Fra tra patata e banana cosa preferisci? Bro patata ce lo sai Patata 100% Qual è il motivo? Bro la patata bro Fra ti invece? Patata bro Perché la patata? Se io ti offro una patata ti piace? Sì subito ora Se volete ti offro una bella patata adesso Sì vediamo Ecco la patata fra Bro Ma fra è patata no? Bro Ma fra è patata no? Ma fra è patata no? No la pru Ma fra è patata no? Qual è la patata che cerca tu? Jo la patata bra Io non so La patata bro Si Sì, Sapsap Prod, io non mi sento un like. Già lo sapete? Sì, sì, Sapsap Prod. Di Bologna? Di Bologna City. Spaccano molto, sei pronta per la domanda? Sì, la domanda, sono prontissimo, bro. Fra, tra patata e banana cosa preferisci? Bro, eh, bro, non mi fare questa domanda qua, la patata, la prima cosa, la prima modiale, bro, è la patata, bro. La patata? La patata, quella rotonda, bro. Mamma mia, incredibile. Sì. Perché quale è il motivo? Ma quale è il motivo? Perché ce l'ho 25 centimetri dentro, bro. Sì, spaccano, incredibile. Sì, sì. Se voglio ti offro una bella patata qua subito. Fra, la tua ragazza oppure cosa? È una bella patata, patata e patate, fra. Il tuo tipo, portala allora. E fra, è quella una bella patata incredibile, quella che spaccano, bro. Non è questa patata qua, io mi servirebbe quella patata naturale, quella patata naturale. Ma faranno questa patata naturale, quella che fa con olio caldo, incredibile. Bro, ti mando fanculo, bro. Bella, bella. Bella, bro. Bella, bella. Siete di Bologna? No, no. Di dove? Por lì. Buona ci sta. Allora, la domanda di oggi è molto semplice. Tra patata e banana, cosa preferisci, raga? Eh, la patata. La patata. La patata, chiaro. Perché la patata? Eh, perché la patata è chiaro. Perché è più buona. Più buona. Più buona? Spaccano, incredibile. Eh, non è male. Se io ti offro una bella patata per voi, preferisci la prendere? No, la prendiamo subito. Subito, subito, subito. Ma io con la patata, fra. No, 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 questo non è male. Non questo, no, no. Ma quella è patata, bro. Mi ritiro. Mi ritiro anch'io. Mi ritiro. Ma anche quella, spaccano. Tenite la terra, tenite la terra. Non per te. Ma potete prendere anche voi, no? È patata, è patata. Sto bene così. Sto bene così. Grazie comunque. Sto bene così. Buona, ringrazio a voi. Bella, bella, fra. Bella, bro. Siamo con chi? Bologna, sito. Della Sbellamoni Gang, lo sanno tutti, no? Che? Già, sapete. Allora, la domanda di oggi è molto semplice. Tra la patata e la banana, bro, cosa preferisci? Fra, tu già lo sai, fra. Ovvio che sellerei la patata, bro. Uh, patata calda o fredda? Fra la patata, cioè, la patata e patata, bro. Io direi che la patata, cioè, allora, cioè, per me, se la patata è un po' fresca, si sta, perché, cioè, se la patata è troppo fredda, non va bene. Uh, quello che spaccano è incredibile. E infatti... Bro, se a voi ti offro una bella patata calda subito. Veramente, bro, una patata calda subito? Caldissima, subito, qua. No, ho tanta voglia, fammelo vedere. Sono pronto. Vorrei quella patata. No, bro, god damn, non è questa patata, no. Ma, però, è patata, no? Ma, no, 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 no. Ma non è quello che intendo io, bro. Io intendo la gnocca, bro. No, la gnocca, mamma mia, incredibile. Bella, fra. Boh, bella. Tutto a posto? A posto, grazie. Siete di Verona? Certo. Che fatti in giro? Niente, stiamo per andare a fare un viaggio. Buona città. Allora, bro, tra patata e banana cosa preferisci? È chiaro. Banana o patata? Patata, patata. Patata, tu invece? Le banane vanno bruciate, patata. Perché la patata? Perché patata... Ma cosa preferisci tra patata e banana? Perché tu preferisci banana e patata? Qual è il motivo? Sono maschio. Mi piace la patata. Più cotta, più buona. Più cotta, buona. Se io ti offro una patata adesso, ti piace? Tu? Sì, se io ti offro una patata, magari una bella patata qua. Ovvio che mi piace. Cento per cento. Cento per cento. Tu invece, fra? Guarda, anche dietro con la macchina lì è una patata. Va bene, ecco la patata, fra. Ecco la grande patata, buona, no? Dai, perché spaga? È una patata o no? Dai, puoi venire, no? Intendo la patata, la patata, quella col buco. Questo qua non ha buco. Dove c'è il buco qua? Ma anche quello si chiama patata, no? No, no, no. Bella, bella. Bella. Bella, fra? Bella, bella. Bella, fra? Bella, fra. Di Bologna, sì? No, no. Siete caricati per la domanda? Dai, siamo carichi, dai. Buona. Tra patata e banana, cosa preferisci, Bologna? Patata. Patata, patata, perché la patata? Voi, natura, natura, la patata. Natura. Tu invece, perché patata? Fra, patata serve, hai capito, nella vita. Bisogna. No, ma vuoi patata grande o piccola? Beh, patata buona voglio. Normale? Dolce, dolce, buona. Dolce, io ho un patata dolce, se vuoi ti offro subito. Buono, buono. Tu invece? No, non ho capito. Se hai un patata buona qua, se vuoi ti offro subito un bel patato. Ah, fammelo vedere la patata buona. Ecco la patata. Ma scherzi, ma? Ma fra è patata. No, io voglio patata buona, non patata così. Ma fra è patata, è patata. Non è questa, non è questa. No, no, no. No, patata. No, no. No, la prossima volta spiegati patata, hai capito? Ma frango, questa è patata, bro. Ah, questa è patata. Non è buona come vogliamo noi, hai capito? Noi veniamo qui per vedere patata buona. Buona. Buona, buona. Ma tra patata e banana? Sì. Eh, la patata, frango. Sicuro? È fresco, sicuro. Perché la patata? Perché fra la patata ci sta, capito? Calda, soffice. Capito? Ti immergi fra, capisci? Boom. Capito, fra. Quello che spagano? Sì, capito, fra. Buona, buona. Tu invece? Eh, io ho patata, fratello, gustosa. Patata dolce, però, non salata. Non salata, fratello. Madaglia. Se volete io ti offro un bello patata adesso. Vai, 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 fammelo vedere questa patata. Una patata qua subito? Eh, ma chiamiamolo tu mica. Certo, è un'amica. Ecco la mia patata. Oh, no, non è che... Perché è bravo? Ma è patata, non è incredibile. E quella è patata, bro. No, fra, non è questa patata che vogliamo. E noi vogliamo l'altra patata. L'altra patata. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm a hustler, baby. I'm a hustler, baby. I know heartbreaks, setbacks. Bitch, if I crap out, I'm sure I'm a gift.